In questo mese ci sono dei fiori bellissimi che potete vedere a sinistra, che si chiamano Agisai, in giapponese, che servono di Hortensia, in italiano, che compaiono per tutto il paese e hanno colori molto belli, e quindi ho deciso di usare questi colori, dal rosa al verde al fiora, un gioco di carta tradizionale giapponese chiamato Anarchuda, che potete vedere in mezzo. E con questo volevo richiamare questi fiori di cui parlavo prima, che potete vedere in basso a sinistra, e con la prima maglietta potete vedere una curva del famoso circuito di Imola, dove si svolgerà l'evento, e per i colori ho anche aggiunto del nero sulle parti laterali per dare un po' di sportività alla maglietta, che è la città dove è nata Suzuki, e dove ancora oggi ci sono gli headquarters, e dall'altra parte ci sono le coordinate GPS di Imola, che continuo per farvi vedere questo legame molto forte tra l'Italia e il Giappone. Questo è tutto per me. Grazie. 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 Grazie.